gentili telespettatori buona giornata e benvenuti a questo video di tele italia sapete tutto quello che c'è da sapere sulle quello che chiamano l'election day il giorno delle elezioni dove ci saranno diversi tipi di quesiti di elezioni il 20 domenica 20 e lunedì 21 di settembre saremo chiamati alle urno per il rinnovo di sette consigli regionali amministrative comunali referendum sul taglio dei parlamentari e ci sarà anche un taglio delle persone ai seggi per proprio per l'enorme anticontagio con accessi contingentati distanziamento e mascherina quindi bisogna andare con la mascherina quindi i 20 21 settembre alle urne in sette giorni ma vediamo quali sono le caratteristiche di questa elezione si voterà anche per le elezioni supplettive del senato della repubblica nei collegi uniluminali sardegna 3 e veneto 9 sono oltre 51 milioni gli elettori chiamati al voto distribuiti in 61 mila 572 sezioni quindi i seggi nella giornata di domenica 20 saranno aperti dalle 7 alle 23 mentre lunedì 21 settembre sono aperti dalle 7 alle 15 alle 3 del pomeriggio intanto sono previste le date di domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre per lo svolgimento di eventuali ballottaggi delle elezioni amministrative nei comuni dove non si raggiungesse la maggioranza assoluta 7 le regioni chiamate al voto si è sempre parlato di 6 ma sono 7 per un totale di 18 milioni e 590 mila e 81 elettori di cui un milione 551 mila all'estero quindi si vota in campania liguria marche puglia toscana val d'aosta e veneto la regione con più elettori è la campania con 5 milioni e 47 mila 973 aventi diritto al voto segue il veneto con 4 milioni 142 mila 245 votanti la puglia con 3 milioni 603 mila 949 votanti la toscana con 3 milioni 12 mila 721 votanti la liguria con un milione 357 mila 210 votanti le marche con un milione 320 mila 395 e infine la val d'aosta con 105.588 iscritti nelle liste elettorali quindi i comuni al voto per le amministrative sono addirittura 1184 per le elezioni di 15.213 consiglieri comunali e 1184 sindaci oltre a 66 vice sindaci elettivi nei comuni della val d'aosta la regione con più comuni al voto è il trentino alto adige con 269 comuni segue la sardegna con 159 comuni la regione con meno comuni al voto amministrativo è la toscana ne ha solo 9 e l'umbria con 6 comuni si vota anche in 169 160 comuni inclusi in città metropolitane esclusa la città metropolitana di firenze dove nessun comune parteciperà alle elezioni e sono 18 i capoluoghi venezia reggio calabria trento bolzano andria arezzo matera crotone agrigento trani chieti lecco mantova macerata fermo nuoro aosta ed enna in sicilia e sardegna oltre all'election day del 20 e 21 di settembre gli elettori dovranno ritornare alle urne per le elezioni amministrative in altre date nei comuni della regione sicilia le amministrative che interessano 61 comuni si svolgeranno il 4 e il 5 ottobre del 2020 con eventuale turno di ballottaggio il 18 e il 19 ottobre del 2020 per i comuni della sardegna le amministrative saranno posticipate domenica 25 e lunedì 26 di ottobre in sardegna le amministrative interessano 160 comuni di cui 4 sopra i 15 mila abitanti tra cui un capoluogo di provincia nuoro con eventuali ballottaggi in programma lotto e il 9 di novembre addirittura per quanto riguarda invece la riforma del taglio dei parlamentari la legge concernente modifiche agli articoli 56 57 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari è stata approvata l'otto ottobre del 2019 e prevede una riduzione da 630 a 400 seggi alla camera e da 315 a 200 seggi al senato per il referendum confermativo per il quale non è previsto un quorum sono chiamati alle urne 51 milioni 559 mila 898 elettori di cui 4 milioni 616 mila 344 all'estero per le supplettive per il senato della repubblica in programma sempre il 20 21 settembre nel collegio delle regioni sardegna plurinominale 01 collegio uninominale 03 sassari gli aventi diritto al voto sono 467 mila 122 mentre per le supplettive per il collegio regionale veneto plurinominale 02 collegio uninominale 09 villa franca di verona gli iscritti con diritto di voto sono 352 mila 696 per l'election day il ministero dell'interno insieme al ministero della salute inoltre sottoscritto un protocollo sanitario di sicurezza al fine di prevenire il contagio da covid 19 sono previsti accessi contingentati agli edifici che ospitano i seggi percorsi distinti di entrate di uscita distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori in particolare nel momento in cui questi devono rinunciare e rimuovere le mascherine per il riconoscimento definizione del numero delle disposizioni delle cabine elettorali tenendo conto dello spazio disponibile e delle necessità di movimento infine occorre ricordarsi che per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte degli elettori e di ogni altro soggetto che ha diritto ad entrarvi come i rappresentanti di lista quindi tutti esclusivamente con mascherina il 20 e il 21 di settembre su queste elezioni che molti avevano paventato come una spartiacque una verifica di governo realmente anche matteo salvini dice le elezioni in toscana la seconda regione rossa anche se dovessimo vincere non sarebbe non porterebbe assolutamente una crisi di governo ormai tutti hanno capito che il governo non vuole in nessun modo cedere per non perdere potere e stipendio questa è la realtà ormai sono abbarbicati e nessuno li può tirar giù io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook nella pagina tele italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet io vi rinnovo il ringraziamento per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti